Grazie, grazie. Vogliamo ringraziarla per aver scritto questo meraviglioso libro che per noi è stato una grande porta. Con le parole giuste lei è riuscita a farci capire che tante volte le nostre paure sono delle porte chiuse che non ci permettono di procedere nel nostro cammino. Insieme a lei siamo riusciti ad abbattere tante barriere. Il suo messaggio è arrivato, non siamo restati alla finestra ad aspettare queste parole giuste e non le dimenticherò mai. Wow, grazie, un applauso. Allora, mi dico che mi devo spostare.